Ciao! Benvenuto nel canale di AgriEuro, in questo video, ti presenteremo le caratteristiche principali dell'Ego TR3801E, B. Ma prima di iniziare, voglio ricordarti che AgriEuro, è l'unico e-commerce che permette una fornitura completa di pezzi di ricambio, per tutta la vita del tuo prodotto. In caso di necessità, per riparazioni o assistenza, offriamo un supporto completo, grazie a una maxi-officina interna, o attraverso uno dei 400 centri assistenza partner, sparsi in Europa. Ma ora, vediamo le caratteristiche principali del nostro prodotto. Il trattorino tagliaerba Ego TR3801E, B. si presenta come un ottimo prodotto nel settore della cura del verde. Combinando prestazioni paragonabili a un motore a benzina da 22 CV con il valore aggiunto di essere totalmente privo di emissioni nocive e di funzionare in modo notevolmente più silenzioso. Progettato per massimizzare l'efficienza e ridurre il tempo di lavoro, il trattorino Ego TR3801E, B. vanta un'ampia area di taglio di 98 cm. La sua interfaccia intuitiva LCD semplifica la personalizzazione delle impostazioni, come la velocità e la modalità di taglio, e fornisce un monitoraggio accurato dello stato di carica delle batterie. L'aggiunta della connettività Bluetooth offre un livello aggiuntivo di comodità, consentendo un facile accesso alle informazioni del trattorino direttamente dal proprio smartphone. Inoltre, la possibilità di adattare la durata operativa in base al numero di batterie installate rappresenta un vantaggio significativo. Con una velocità massima di 9.6 km all'ora e 12 opzioni di regolazione dell'altezza di taglio, che variano da 2,5 a 10 cm, il trattorino tagliaerba Ego TR3801E, B. offre un controllo e una personalizzazione ottimali. Le luci LED ad alta intensità e i comfort aggiuntivi, come i portabicchieri, arricchiscono ulteriormente l'esperienza d'uso, confermando questo modello come scelta eccellente per chi cerca un taglio efficiente, ecologico e confortevole. Ed ora, ecco la guida di montaggio del prodotto. Grazie a tutti! Visita il sito AgriEuro e scopri le offerte nel nostro store online. Clicca sul link in descrizione per saperne di più.